Detto questo arrivo alla presentazione di Elena Svalduz, relatrice della lezione di oggi che si chiama Rialto nelle rappresentazioni cartografiche. Ne vedete il titolo in alto, credo, nello schermo. Elena Svalduz si è laureata e addottorata in storia dell'architettura all'OIUAV e fin da allora, fin dalle sue prime battute, ha sempre cercato di allargare la sua attenzione per la storia dell'architettura e per lo studio dei caratteri architettonici e dei manufatti, soprattutto in età moderna, diciamo, fra Quattro e Cinquecento, anche ai temi urbani. Tanto che i suoi primi libri, credo che i titoli valga la pena recitarli perché mi sembrano abbastanza significativi, sono il primo, Da castello a città, Carpi e Alberto Pio, tra 1472 e 1530, che era stato pubblicato a Roma da Ufficino nel 2001. E il secondo, l'ambizione di essere città, piccoli e grandi centri nell'Italia del Rinascimento, pubblicato dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti nel 2004. I suoi interessi si sono quindi concentrati soprattutto sulla città moderna, Quattro e Cinquecento, però si è anche occupata di storia della città contemporanea, con uno sguardo, per esempio, a Mestre. Nel momento in cui c'è stato un dibattito particolarmente acceso, lo ricorderete tutti, penso, per l'inizio, la promozione, che poi ha dato adito al concorso, per la realizzazione di M9. Ha pubblicato Il Borgo delle Munaghe a Mestre, storia di un sito per la città, pubblicato da Marsiglio nel 2010. Attualmente è professore di storia dell'architettura e di storia della città e del territorio presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Padova. Con Gian Mario Guidarelli è curatrice della collana Armonie Composte, pubblicata dalla University Press dell'Università di Padova. Fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Storia Urbana e dello Steering Committee della nostra associazione, alla quale partecipa sempre in modo molto attivo e propositivo. E proprio a partire da questi ultimi interessi vorrei ricordare che ha recentemente promosso la Summer School su spazi di mercato, siti produttivi e paesaggi sonori nella città europea, una scuola estiva, fra virgolette, che abbiamo tenuto nel mese di settembre 2020, la cui prima tappa abbiamo tenuto nel mese di settembre 2020 e che ha visto la partecipazione di una quantità notevolissima di partecipanti anche stranieri e la cui seconda tappa sarà invece nella seconda metà del marzo 2021. Si tratta di un'iniziativa, a mio modo di vedere, particolarmente importante perché riguarda una questione di grande apertura in cui il mercato di rialto, così come i mercati delle piazze padovane, sono temi centrali e temi di lavoro per i partecipanti, ma che si pongono nell'ottica di ragionare sui mercati storici e la rigenerazione delle città, quindi processi di trasformazione anche in corso oggi nelle città in cui viviamo. E adesso la parola a Elena. Grazie. Grazie a te Donatella per questa presentazione e vorrei ricordare che il libro su M9 l'abbiamo scritto insieme, quindi insomma è giusto dirlo. Detto questo io aggiungo ai saluti e ai ringraziamenti di Donatella, mi permetterete di farlo, poi vi spiegherò perché, una serie di persone che mi hanno aiutato a reperire materiali, in questo momento non è assolutamente facile, tra le biblioteche, i musei veneziani, padovani e trevisani, quindi vorrei ringraziare Monia Bottaro della Biblioteca Comunale di Treviso, Fondi Antichi, Valeria Caffè e Andrea Bellieni del Museo Correr di Venezia, Marita Lieberman, la direttrice del Centro Tedesco di Studi Veneziani insieme alla bibliotecaria Michaela Böhringer, Monica Donaglio dell'Archivio Storico Comunale di Venezia, e per gli scambi avuti anche in questi giorni all'ultimo momento, ringrazio Ludovica Galeazzo, Gian Mario Guidarelli e soprattutto Deborah Howard, poi capirete perché. Infine vorrei anche ringraziare la direzione delle Gallerie dell'Accademia, Giulio Manieri Elia e Roberta Battaglia, che hanno ospitato queste nostre lezioni della storia, dapprima in presenza e poi ora virtualmente. Infine un grandissimo ringraziamento a Simone Rauch, che sta dietro le quinte ma vi assicuro che fa un grandissimo lavoro. Detto questo inizierei subito e velocemente con darvi alcune indicazioni riguardanti la nostra chiacchierata di questa sera. indicazioni che sono di due tipi. Da un lato cercheremo di dare, come dire, delle avvertenze per capire che tipo di selezione di immagini vi sarà presentata e in quale ottica guardiamo questa vastissima produzione cartografica che ha come oggetto Venezia. nella seconda parte inizierò poi a darvi appunto di proporre una selezione di immagini. In alcuni casi mi soffermerò più nel dettaglio guardando l'insula di Rialto oscillando quindi, oscillando nella scala d'analisi dal generale al particolare. Come affrontiamo questo tema delle rappresentazioni cartografiche? In realtà si tratta di rappresentazioni a scala urbana e le guardiamo in quest'ottica, nel senso che la cartografia può essere considerata uno degli strumenti più interessanti di svelamento dei luoghi fino ad essere proprio vista come una particolare declinazione della storia della città. È un supporto fondamentale per la storia della città. Però diciamo che guardiamo la cartografia, questi esempi, come se fosse una crocevia di una serie di interessi afferenti a più discipline tradizionalmente intese. Jürgen Schulz, proprio in rapporto a Venezia, ne parla come una crocevia qualcosa che ha a che fare sia con la scienza che con l'arte, come vedremo, ma occorre tenere presente, dare alcune avvertenze di fondo. Ogni singolo documento cartografico è infatti risultato di scelte culturali, di codici figurative, ha a che fare con capacità tecniche, con l'invenzione della prospettiva, come vedremo, e spesso può anche avere delle finalità pratiche, come emerge molto chiaramente nell'ambito veneziano. Allora è importante capire, restituire i disegni, che vedremo, a un contesto di produzione, associandolo anche a diverse tipologie di documenti. Vedremo ritratti di città manoscritti a stampa, alcuni a stampa, cercheremo di stabilire delle associazioni, alcuni documenti cartografici che hanno una semplice valenza di rappresentazione, altri invece che hanno proprio un senso prefigurativo, che introducono dei progetti o delle idee sulla città, quindi alcuni che rappresentano uno stato di fatto e altri che invece vanno verso una proiezione al futuro. In alcuni casi parleremo di tecniche di rappresentazione, ovviamente non in tutti i casi, di scala di rappresentazione e di contesto di produzione e di committenza, per arrivare ovviamente a focalizzarci sulle trasformazioni dell'insula di Rialto. Perché Rialto è un'isola e ce l'ha ben detto Donatella, insieme a Paolo Moracchiello, che nel 1987 scrive un volume interamente dedicato a Rialto, che tutti noi abbiamo studiato, letto, riletto, la mia copia, guardavo proprio in questi giorni, è sottolineata con tantissimi colori e con moltissime annotazioni, anzi spesso dico che intere generazioni di architetti si sono formate su quel libro, quindi questo volume, Rialto, le fabbriche e il ponte, era dedicato all'insula a Rialtina nel periodo tra il 1514 con l'incendio del mercato di Rialto e il 1591, che è la data di conclusione dell'iter di costruzione del ponte in pietra. L'Incipit descriveva proprio questa mitica insula e dava una citazione bellissima da Fernand Brodel, diceva il mercato è un limite, è quasi uno spartiacque, non si vive allo stesso modo da un lato o dall'altro della barriera e a Venezia l'isola del mercato non è una metafora, si è andata progressivamente identificando con un'isola, uno spazio fisicamente circoscritto sulla riva destra del canale grande in prossimità vedete di questa piega che compie a 90 gradi e con un'insula i cui confini sono determinati oltre che dal canale grande che appunto si piega anche da questo rio delle beccherie e rio delle fonte o delle farine che corrisponde, guardate un po' l'andamento che corrisponde a un rio che è stato interrato e che è più o meno questo che oggi è denominato Rio Terà di San Silvestro. Qui cominciamo ad associare le immagini con alcune vedute dell'insula di Rialto. Ecco questa che vedete è un'utilissima, ringrazio la Donatella che mi ha mandato questa immagine, è un utilissimo schema della trama dei percorsi acquei e pedonali dell'isola di Rialto in cui oltre ai limiti acquei si evidenzia con molta chiarezza l'incrocio di due assi stradali, uno che attraversa l'insula verso San Polo e che corrisponde all'attuale salizzada di San Giovanni e l'emusinaro e l'altra invece la ruga degli Oresi che taglia perpendicolarmente questa via e che si spinge in direzione di San Marco attraversando il ponte di Rialto. Ecco cominciamo a vedere come questa trama, per usare delle espressioni molto care a Donatella e che riporta anche nell'ultima sua guida, la guida di Rialto che è uscita nel 2020 e che ho citato nella precedente di Dascalia. Ecco cominciamo a vedere appunto la persistenza di questa costruzione dell'insula di Rialto, lo vedete anche qui, i toponimi cambiano ma la trama rimane, vedete, la ruga degli Orefici anche se qui in questa mappa settecentesca di fine Settecento di Antonio Mazzoni la ruga degli Orefici è questa, ma come vedete abbiamo due strade e i percorsi acquei che delimitano l'insula. Ora vedremo una serie di immagini che non sono, come dire, chiare come questa che vedete. Questa che vedete giunge a fine Settecento in un momento in cui la misura dei luoghi prende piede, la misura in questo caso non è molto chiara la funzione di questa mappa ma in cui la conoscenza dei luoghi era assolutamente progredita e si andava verso la misura, la chiara definizione qui a un censimento probabilmente delle botteghe come potete vedere. Mentre invece andando indietro, andando anche a definire quello che è il cuore di Rialto faccio vedere quest'immagine tratta sempre dalla guida di Donatella di Rialto che ha appunto come sottotitolo l'isola del mercato a Venezia il cuore di Venezia è Rialto ma il cuore di Rialto è la pescheria questa scritta Il cuore non si vende che era stata apportata alle tende rosse da sole della pescheria in un momento in cui gli esercenti del mercato protestavano in un certo senso per l'incuria e per la disattenzione nei confronti di questo cuore quella disattenzione verso i luoghi che recentemente ha avuto modo di provare quel senso di distrazione che secondo un bravissimo antropologo che è Vito Teti fa emergere proprio il senso del luogo ecco ho letto questo bellissimo libro Il senso dei luoghi di memoria e storia dei paesi abbandonati che è stato ripubblicato nel 2014 e fa vedere proprio come il senso del luogo possa emergere in un momento di disattenzione di incuria e di degrado quindi vediamo se le cose stanno così ecco stavo ricollegandomi a quello che dicevo prima quell'immagine di Mazzoni straordinaria Proto dei provveditori di comuna che registra con molta attenzione i luoghi in un momento in cui anche la misura dei luoghi entra a far parte delle rappresentazioni cartografiche mentre per riprendere un'espressione molto chiara di Deborah Howard le rappresentazioni cartografiche a lungo in età moderna oscillano tra la finzione e la realtà between fiction and reality ed è proprio vero ed è proprio vero e lo dice in questo bellissimo libro pubblicato nel 2014 e dedicata a una veduta di Venezia secentesca che guarderemo insieme in cui esordisce dicendo che sicuramente la città di Venezia ha diciamo ha fatto presa sulla immaginazione globale e non c'è dubbio come potete già vedere da questo dettaglio di una veduta di Venezia successiva a quella esaminata da Deborah Howard che la città possa diciamo offrire proprio per il suo rapporto con l'acqua ma non solo possa offrire diciamo delle declinazioni particolarmente significative particolarmente interessanti per chi la va a ritrarre ecco guardate anche qui un'immagine a stampa che ebbe una grandissima diffusione in cui questi effetti coloristici i riflessi dell'acqua ci sono delle descrizioni bellissime anche cinquecentesche che parlano di questo rendono diciamo unica la rappresentazione anche cartografica la rappresentazione di questa città miracolosa andando proprio come ci ha ben raccontato anche Ludovica D'Aleazzo la scorsa settimana andando ad alimentare il mito di Venezia mito di Venezia una città che cresce per progressivi accrescimenti progressivamente come vediamo in queste immagini che sono cartografie di dettaglio di alcuni luoghi periferici guardate per esempio questa siamo nel 1538 e ci troviamo nella parte nord-occidentale di Venezia con un accrescimento vedete che viene un lotto di terra che viene letteralmente strappato dalle acque circondato da una palificate che verrà via via urbanizzato e questo è il processo di crescita si può vedere nelle aree marginali molto bene dove questi rettangoli spesso stilizzati nelle rappresentazioni vanno a comporre in un mosaico sempre in stretto rapporto con l'acqua per inciso questa mappa querellata dell'area compresa tra la sacca della misericordia e i birri è un omaggio a Ludovica Galeazzo perché è proprio una figura sulla copertina del suo bellissimo libro dedicato ai margini di Venezia ma ancora qualche riflessione di carattere generale perché quando noi guardiamo queste mappe queste carte abbiamo la tendenza di dire che sono molto come dire elementari che sono ingenue spesso ma ci dimentichiamo che che cosa sia una mappa ecco vi ho preso qui a sinistra una mappa di rialto una mappa turistica dove capiamo a che cosa serve a che cosa serve una mappa in questo caso una mappa turistica che ci dà delle informazioni dove sono le principali chiese alcuni toponimi i bagni pubblici quindi la mappa ricordiamoci che anche nel corso diciamo dell'epoca che andremo a vedere adesso ebbe la funzione di mappare di guidare di raccontare e risponde all'esigenza di rappresentare una città ma anche di controllarla di sottoporla meccanismi di controllo nella sua integrità oppure nella sua parte quindi prima citavo Schulz nel suo La cartografia tra scienza e d'arte che esordisce proprio con questa domanda come si legge una mappa topografica è importantissimo interpretare come vi dicevo le immagini capire stabilire le intenzioni le convenzioni il contesto di produzione e anche il committente spesso difficile da rintracciare un po' come si fa con le opere d'architettura ecco il contesto veneziano però è particolare particolare non solo per il rapporto con l'acqua ma anche per una particolare declinazione della cartografia di ambito amministrativo e che nasce in un momento preciso in maniera strettamente interrelata con la formazione degli apparati pubblici delle principali magistrature veneziane tutti voi conoscerete questo che è una specie di manifesto un atto di nascita della della geografia storica della cartografia storica la carta del territorio veronese detta dell'Alma Già siamo nel 1460 e vedete un dettaglio di Verona è stata studiata da Giuliana Mazzi e da recentissimamente da Gian Maria Varanini nasce in maniera strettamente appunto connessa con un'indicazione data ai rettori delle varie città e dei territori dominati di rappresentare i territori dominati è un documento che parla molto chiaramente che risale al 1460 che è stata messa in relazione a questa rappresentazione come ad altre e Giuliana Mazzi molto diciamo con molta intelligenza ha parlato di cartografia di rappresentazione ma in funzione di dominio cioè la conoscenza del territorio per consolidare il dominio di Venezia sulla terraferma ma posso anche ricordarvi rappresentazioni straordinarie come questa a livello territoriale di Cristoforo Sorte che è considerato il primo geografo della storia uno dei più importanti che ha a che fare con la fornitura d'acqua di territori compresi tra due fiumi il Piave a nord e il Brenta sulla sinistra che necessitava di essere ad acquato quindi vedete come la cartografia veneziana abbia un senso diciamo intrinseco specifico particolare però vorrei anche un po' uscire da questo cliché dimostrandovi come in realtà la necessità di rappresentare spesso in maniera sintetica andando a focalizzare alcuni elementi e quindi andando a ritrovare la finalità della rappresentazione non è del tutto straordinaria come sembrerebbe non è per esempio qui vedete una mappa che esce da una magistratura particolarmente attiva nella rappresentazione di Venezia i savi esecutori alle acque siamo nel diciottesimo secolo e la città intera di Venezia viene sintetizzata attraverso due piazze come vedete la piazza di Rialto isola di Rialto la piazza di San Marco Sime la piazza di Rialto e la piazza di San Marco che sono collegati vedete separati dal canale grande e collegati dal ponte di Rialto ponte da cui poi si entra in questa che è la merceria la strada diciamo di lusso che sfocia in prossimità della vedete marzaria sotto l'arco trionfale nella piazza ma non è del tutto straordinaria una rappresentazione particolare che è stata già studiata ma se ci spostiamo a Firenze la stessa diciamo necessità di sintetizzare la città per parti e vedete una parte una parte di Firenze e l'altra parte l'Oltrarno e i ponti che attraversano il fiume non è quindi è un po' un sistema di sintesi delle parti della città e delle connessioni di queste diverse parti che anima la ricerca sulle rappresentazioni della città sui ritratti della città Gianni Romano ha usato diciamo un due secondo me due avvertenze che devono sempre essere utilizzate quando guardiamo queste immagini attenzione ai trabocchetti delle immagini ci dice in uno studio dedicato peraltro al paesaggio in termini generali e attenzione a non rappinare il documento cioè non isolare una parte della rappresentazione come potrebbe essere di alto senza metterla in relazione al contesto figurativo più generale trabocchetti che come vediamone uno ma ce ne sono moltissimi vediamone uno nella cosiddetta veduta volo d'uccello pianta prospettica di Venezia di Jacopo de Barbari sulla quale torniamo dopo vediamo come nella zona nord alle diciamo sul retro del convento di San Giovanni e Paolo e qui vedete la scuola grande di San Marco sembra esserci diciamo non esserci nulla quindi non non esserci il convento dei dominicani che sappiamo che al 1500 pur era costruito ma la rappresentazione è come vedremo poi dopo è in qualche modo schiacciata per mettere in evidenza alcune parti della città è schiacciata e questo genera se volete un trabocchetto perché noi potremmo dire che questa parte di città non è stata costruita al 1500 ma così non è affatto non è affatto vi faccio vedere qui come lo storico della città integri le informazioni usando anche tipi di rappresentazione a carattere diverso è chiaro che per noi il catasto la rappresentazione catastale è assolutamente interessante qui ci fa vedere una prima parte del convento una seconda addizione che arriva poi con le fondamente nuove con la realizzazione dell'ospedale dei mendicanti a cavallo tra il 5 e il 600 ma quello che vi volevo far vedere è che utilizzando sistemi di punti di vista differenti sulla città possiamo integrare diciamo queste informazioni mancanti come ho fatto in uno studio dove ho diciamo lavorato molto sui limiti di Venezia Nord sul rapporto con l'acqua e vi faccio vedere questo straordinario dipinto anzi un dettaglio di un dipinto di Giovanni Gerola Mossavoldo conservato alla Pinacoteca di Brera che ci fa vedere il retro della chiesa di San Giovanni e Paolo della Basilica di San Giovanni e Paolo il profilo della scuola grande di San Marco con qualcosa una serie di attività e qualcosa che si sviluppa in quest'area c'è da tenere presente un fenomeno un fenomeno che va a moltiplicare la produzione delle immagini di città ed è chiaramente l'invenzione del mezzo a stampa se prima del 1490 attenzione solo 30 vedute di città erano geograficamente identificabili un secolo dopo non si possono stimare solo nel Civitate Sorbis Terrarum che vedete qui rispettivamente Venezia sulla sinistra e a destra Londra ci sono 546 immagini che cosa succede che nel corso del XVI secolo le città diventano un vero e proprio catalizzatore di attenzione in tutta Europa possiamo dire le città del mondo di allora vengono vengono interessate da un meccanismo di rappresentazione che non ha uguali quindi c'è su questo fenomeno si innesta l'invenzione del mezzastampa e le immagini di città diventano qualcosa di molto molto diffuso si passa poi dal racconto della città quindi da una come dire rappresentazione a volte a tratti simbolica a tratti come dire molto elementare della città alla rappresentazione invece misurata dello spazio e vorrei introdurre questo argomento passando da questa pianta di Venezia che è famosissima di Fra Paolino conosciutissima che è diciamo tratta dalla cronologia magna data il 1346 rappresenta una condizione precedente di Venezia che ci fa vedere che cosa Venezia diciamo come nella sua forma più nota di pesce con una ecco questa che vedete qui è sulla destra è un ridisegno realizzato da Bellavitis che ci fa vedere ci fa ridisegnare ridisegna diciamo mette in pulito questa mappa e ci fa notare alcune la presenza di alcune lettere che qui non si vedono tra cui la R la R di Rialto A di Arsenale che cos'è quella che vediamo vediamo scusate torno indietro vediamo una città attraversata dal Canal Grande e a sua volta l'unico ponte che attraversa il Canal Grande è il ponte di Rialto inserita in un sistema lagunare ce ne ha parlato bene Ludovica Galeazzo la scorsa settimana e non voglio ritornarci emerge la presenza dell'isola di Murano guardate i limiti della città come sono frastagliati soprattutto nella parte diciamo rivolta verso la terraferma e guardiamo anche l'orientamento della mappa la coda del pesce per dirla con Tiziano Scarpa è in alto e quindi diciamo la città è rivolta verso la terraferma sono anche segnati i canali di navigazione ragion per cui è stata definita questa pianta con la sua peculiare diciamo prospettiva acquea se volete come un micro portolano una specie di micro portolano al servizio dei naviganti sempre sulla stessa linea vi faccio vedere qui che cosa succede con l'invenzione del mezzo a stampa perché quella che abbiamo visto di Fra Paolino che è notissima è una pianta manoscritta con l'invenzione del mezzo a stampa ovviamente alcune parti si perdono perché la pianta il disegno viene prima inciso o su rame oppure su legno e quindi i dettagli si perdono moltissimo ma cominciano a essere diffuse quasi ovunque immagini di città all'interno di libri come il famoso isolario di Benedetto Bordone che è un personaggio interessantissimo che si muove tra Padova e Venezia un miniatore disegnatore un artista di straordinario rilievo che scrive un libro nel quale si ragiona di tutte le isole del mondo data il 1528 e tra cui appunto inserisce Venezia Venezia in una rappresentazione che è diciamo da questo momento in poi diventa quasi una una un come dire un topus un topus figurativo nel senso che Venezia è racchiusa all'interno del cerchio delle sue vedete della laguna con i suoi lidi le bocche di porto ce ne ha già parlato Ludovica Galeazzo la cosa interessante è che anche qui mentre la rappresentazione di Venezia è assolutamente astratta tant'è che noterete che non esiste il ponte di Rialto è una cosa davvero strana e quindi anche notare le assenze è molto interessante quando si analizzano queste rappresentazioni ma dicevo mentre la rappresentazione è molto schematica invece la descrizione che accompagna l'isolario di Bordone è decisamente più dinamica è straordinaria ed è straordinario anche il fatto che lui parla del ponte di Rialto vi leggo ha nel mezzo un ponte di legno con botteghe e l'una e l'altra parte poste e questo ponte è in tal modo posto che quasi nel mezzo della città giace ed è nominato ponte di Rialto appresso del quale è una piccola piazza tutta circondata di portici laddove si vende i drappi di lana e è luogo dove gli mercanti a certe sue ore del dì si ragunano per fargli i loro traffichi ma voglio dire di più perché Rialto che rappresenta è il Rialto che è stato ricostruito dopo il famoso incendio del 1514 e di questo incendio Benedetto Bordone ci parla in maniera anche abbastanza dettagliata e dice che benché questo danno fosse più che 2 milioni di fiorini d'oro in 20 anni 8 tutta quest'isola fu redificata e in modo che più per l'avenire non è per ardere per essere tutta di pietre marmore senza alcuno legname fabbricate e questo dimostra quanto di ricchezza abbia questa città eccetera eccetera quindi nel dar conto dell'incendio che distrugge completamente la città celebra esalta la ricchezza e la capacità anche di rinascere che è tipica di Venezia dalle ceneri dell'incendio ecco stranamente quello che mi colpisce è che se Bordone nella versione a stampa che abbiamo appena visto non disegna il ponte di Rialto invece in questa bellissima mappa su pergamena manoscritta della fine del quindicesimo secolo che è pure una mappa di tipo diciamo lagunare tant'è che esce dagli apparati dagli uffici delle acque del governo veneziano riconoscerete un po' in maniera un po' sommaria la laguna con queste vene che entrano dentro la città il canale della Giudecca il canale il grande eccetera se andiamo a dettagliare però l'unica elemento che denota una certa attenzione anche un certo rigore e una certa reality come direbbe Deborah Howard è il ponte di Rialto ponte di Rialto che 1490 oltre data di rappresentazione di questa mappa viene rappresentato in maniera abbastanza fedele come siamo abituati a vederlo mi riferisco al famoso miracolo della reliquia della croce di Carpaccio e qui vi faccio vedere una bellissima restituzione virtuale effettuata da Mirka dalla Longa e esposta forse nella mostra che avete visto sugli ebrei a Venezia in Palazzo Ducale in cui ha ricostruito anche il meccanismo di apertura anzi di scorrimento del vecchio ponte di Rialto che sarà come sapete bene ricostruito un aspetto su questa che vorrei sottolineare invece riguardante in un certo senso Rialto e sul quale però vorrei abbastanza correre è la pianta prospettica di Jacopo dei Barbari del 1500 se ne è parlato in molti luoghi in molti modi e anche recentemente è stata più volte considerata come sapete tutti è una pianta prospettica artificiosa in un certo senso artificiosa io devo dire che ancora le osservazioni di Bellavitis e Romanelli nella collana le città delle storie d'Italia dedicata a Venezia degli anni 80 è ancora fortemente significativa parla di collage di accuratissime vedute urbane ma anche di un carattere dinamico didattico insieme che consente all'osservatore di passare e ripassare sopra la città esplorandola come da un elicottero ed è l'acqua dicono questi autori con la sua capacità di distruggere le coordinate della prospettiva lineare che gli consente di collocare dei frammenti urbani disegnati praticamente in assonometria entro un sistema fluttuante di fughe che paiono prospettiche ora non abbiamo ancora sciolto i dubbi su questa pianta certo che l'artificio prospettico che ci fa vedere è qualcosa di ingegnoso di ingegnoso ve lo faccio vedere questo artificio attraverso un bellissimo disegno una pianta prospettica di Baldassarre Peruzzi che è il mio architetto preferito per San Pietro risalente agli anni 30 del 500 in cui il figlio Sallusto Peruzzi scrive sul retro del foglio San Pietro in prospettiva la pianta è vista come se fosse un oggetto scorciata quindi si alza leggermente il punto di vista e su questa si costruisce come vedete l'alzato ed è un po' quello che succede nella bellissima pianta di Jacopo de Barbari incisa su legno i sei legni sono conservati al Museo Correr di Venezia andateli a vedere anche in questi giorni quando le aperture sono limitate vale la pena perché il carattere dell'incisione è straordinariamente interessante accurata sui l'ipotesi delle deformazioni prospettiche a partire da Schultz ma anche in tempi più recenti si è molto ragionato si è partiti insomma dalle distorsioni prospettiche questi sono i vecchi disegni di Giorgio Bellavitis che aveva appunto individuato questo reticolo di deformazione e poi l'aveva proiettato su pianta e facendo vedere le parti che non sono rappresentate da Jacopo de Barbari perché? perché la funzione di questa pianta è quella di celebrare alcuni punti della città le deformazioni prospettiche sono funzionali all'esaltazione di alcuni luoghi e questi luoghi primo tra tutti è chiaramente la piazza San Marco che corrisponde al luogo privilegiato della città ma anche il luogo che chi arrivava via acqua a Venezia via mare entrando dal porto di San Nicolò come bene ci ha raccontato Ludovica Galeazzo la scorsa settimana si trovava di fronte si trovava di fronte e ragion per cui tutta la parte a nord che abbiamo visto prima sul retro del convento di San Giovanni e Paolo viene schiacciata non viene rappresentata ma c'è un aspetto che è emerso recentemente negli studi più nuovi su questa sulla struttura geometrica che ha messo in evidenza come la costruzione non rifletta diciamo adesso è un po' complesso ve lo spiego ve lo semplifico molto non rispecchia una prospettiva di tipo lineare ma tracciati di ripresa mobili dinamici un sistema prospettico quindi geometrico non lineare e questa deformazione è molto interessante perché come hanno dimostrato molto bene Vladimilo Valerio e Vanna Bagarolo guardate un po' vanno a flettersi da un lato verso il basso e dall'altro verso l'alto con una linea centrale che interseca proprio rialto cioè è come se proprio su rialto questi sistemi deformativi convergessero e allora vediamolo un po' questo rialto di Jacopo De Barbari estremamente noto a partire dai vari studi di Donatella Calabi e di Paolo Morachiello con la localizzazione delle diverse attività lungo le rive ecco recentemente si passa da una rappresentazione da un disegno diciamo di quella rappresentazione del 1987 sistemi un po' più evoluti che vi faccio vedere qui ringrazio Ludovica Galeazzo queste l'identificazione di dei luoghi delle magistrature ma anche delle delle osterie tutte queste visualizzazioni erano state esposte esposte nella mostra acqua e cibo a Venezia che era stata curata da Donatella Calabi e Ludovica Galeazzo ma questo sistema complesso di attività sulla quale non voglio non serve ritornare perché molti mi hanno parlato e credo che sia chiaro viene messo ovviamente in discussione viene spazzato via dall'incendio del 1514 ne abbiamo parlato poco fa ed è un incendio che è devastante per molti aspetti vorrei solo riflettere sul fatto che ci troviamo in piena guerra siamo nell'unica grande guerra che conosce la Repubblica di Venezia una guerra diciamo 1514 mestre viene messa a ferro a fuoco e Venezia viene diciamo è decisamente nei pasticci per semplificare molto in questo contesto vengono presentati e la questione è molto nota vengono presentati ben dieci progetti alla fine arriveranno ad essere dieci per ricostruire l'intera insula di Rialto e famosissimo è il progetto che viene presentato da Fragiocondo Fragiocondo è un frate dominicano anche se non è proprio chiaro se sia dominicano o francescano comunque lo possiamo considerare un frate dominicano Fragiocondo è forse l'ingegnere idraulico o l'ingegnere a tutto tondo più diciamo forte più capace dell'Europa dell'Europa arriva Venezia dopo essere stato a Parigi e aver costruito il ponte di Notre Dame il ponte in pietra di Notre Dame arriva con un curriculum decisamente importante intorno al 1506 e si trova coinvolto nelle principali operazioni architettoniche a scala urbana che che riguardano la Venezia dell'epoca partirà poi per Roma chiamato dal Papa Leone X nel 1514 ma prima lascerà un progetto che c'è noto attraverso la descrizione molto dettagliata che fa Vasari nelle vite di Fragiocondo e attraverso questo disegno che è pure se vogliamo la prima rappresentazione cartografica con finalità progettuali che riguarda l'isola di Rialto quindi vorrei che la guardassimo con una certa attenzione è stata molto diciamo pubblicata ma io ho presa un po' dalla devo dire dalla dalla crisi d'astinenza con musei chiusi biblioteche chiuse il 29 di dicembre mi sono recata la biblioteca comunale di Treviso i fondi antichi e ho dato un'occhiata a questa rappresentazione vorrei proporvi alcune considerazioni la prima dove da dove viene questa rappresentazione dal convito borgiano è uno scritto del 1792 autore Domenico Maria Federici che è un frate dominicano che nasce a Verona nel 1730 e muore a Treviso nel 1808 il convito borgiano è una specie di romanzo storico sulla vita di Fragiocondo prende spunto da discorsi immaginari tenutesi a Roma la messa del cardinale Stefano Borgia da cui il titolo il convito borgiano vedete qui alcune non venne dato alle stampe rimane tutto manoscritto conservato alla biblioteca comunale di Treviso e diciamo che però nella seconda parte si entra diciamo in una serie di considerazioni riguardanti le attività che riguardano le architetture di Fragiocondo la difesa di Treviso le porte della città eccetera eccetera progetti per la loggia del consiglio di Verona vedete qui un'ipotesi di un progetto che venne poi realizzato solo in parte e la tavola quinta che riguarda invece vedete la pianta del mercato di Rialto secondo il progetto di Fragiocondo di Fragiocondo molto interessante questo convito Borgiano dal punto di vista diciamo non dell'opera letteraria che è stata abbastanza studiata ma della raccolta di disegni che fanno pensare che questo Domenico Maria Federici che peraltro anche autore di un'opera sul disegno che è abbastanza interessante sul disegno in generale avesse in qualche modo avuto accesso ai disegni che in ambito dominicano questa può essere un'ipotesi giravano dall'epoca di Fragiocondo torno un po' indietro scusatemi perché questo disegno è un grafico vedete che è un quadrato con una serie di edifici concentrici che si raccolgono intorno ad una piazza che è un foro alla maniera greca poi vi spiego perché porticato su entrambi i lati con quattro porte d'accesso e con vedete qui un ponte un ponte che evidentemente è il ponte di Rialto in pietra per cui Fragiocondo tra l'altro aveva dato anche un'ipotesi per la costruzione Fragiocondo nel 1511 pubblica vedete questa è la copertina si direbbe oggi pubblica la prima edizione a stampa con figure di Vitruvio del De Architettura di Vitruvio e interessante nel 1511 a Venezia e dove nel parlare del foro greco e del foro latino vedete quest'immagine ci fa vedere una restituzione del foro greco quadrato e latino invece rettangolare quindi quello che intende realizzare di fatto è un foro greco con poi una la descrizione di Vasari ci aiuta molto con una via al centro che nella leggenda spiega qui essere una chiesa una chiesa dedicata a San Matteo e che presenta una serie vedete di edifici che verso l'esterno dove nell'anello nell'anello nel quadrato esterno ci sarebbero state diciamo le attività di mercato più basse via via che si va verso il centro la qualità di queste attività sarebbe aumentata vedete questo edificio ve lo faccio vedere e poi un doppio un edificio porticato su due livelli un po' simile poi alla libreria marciana che sarà successiva invece nell'anello centrale dicevo molto interessanti i vari disegni che si trovano nel convito borgiano ma mi sembra anche interessante andando a vedere nel dettaglio il sistema di classificazione che viene riportato a margine del disegno e che è un sistema classificatorio che mi pare emergere anche in alcuni disegni pochissimi disegni noti di fra giocondo quelli per esempio studiati da Nesserlaff recentemente e conservati al gabinetto disegni estante degli uffizi che non vi faccio vedere ma è un sistema vedete con delle lettere maiuscole minuscole quindi da E a F succede qualcosa da Z a V qualcos'altro e insomma è abbastanza interessante quello che nessuno forse si è mai chiesto e che io invece mi sono chiesta è se questo sistema sia un sistema risalente a fra giocondo oppure inventato da Domenico Maria Federici credo che risalga a fra giocondo ma è un po' presto per dirlo qui diciamo che colorando la parte esterna dell'acqua è più si intuisce qualcosa qualcosa di straordinario e diciamo tentando una restituzione sul sull'assetto reale dell'insula di Rialto sarebbe accaduta una cosa straordinaria mai accaduta prima a Venezia cioè una diciamo rinnovo totale dell'insula di Rialto avrebbe che avrebbe comportato peraltro la rettificazione di quel rio che si guardava prima la rettificazione di un rio e una completa distruzione di ciò che c'era anche di quello che era stato salvato dall'incendio del 1514 non solo ma il ponte che vedete qui il ponte sarebbe stato realizzato in pietra in qualche modo si sarebbe collegato al fondaco dei tedeschi che se volete bruciato e completamente ricostruito a partire dal 1508 attivo dal 1508 sarebbe stato diciamo una riconfigurazione all'antica di un sito strategico per la città di Venezia vi faccio vedere qui nel convito borgiano il disegno del ponte sulla Senna in Parigi da anche altri ponti ma questo mi pare interessante perché è un ponte costruito come quello di Rialto e questo edificio anche qui ha un'assonanza come vedete con uno degli edifici del progetto di Fragiocondo per lo stesso Rialto ecco qui ho trascritto la leggenda una purtroppo qui in basso non si legge ma è vedete la V maiuscole la chiesa di San Matteo di cui appunto ci narra lo stesso Vasari quindi si tratta un po' di capire perché non ci sono disegni d'architettura noti di Fragiocondo recentemente è stato esposto questo piccolo disegno nella mostra dedicata a Daldo Manuzio alle gallerie dell'Accademia in cui vedete come disegnava Fragiocondo con un sistema molto geometrica qui abbiamo tre studi in pianta di tipi di villa antica in maniera anche molto semplice ma come vi dicevo su questo bisogna ragionare molto invece quello che accade naturalmente è che questo il progetto straordinario di Fragiocondo non viene realizzato e le ragioni per cui non viene realizzato ci vengono narrate da Sanudo in maniera sintetica ma straordinariamente efficace nei suoi diari lui fa riferimento a Fragiocondo il quale dice non è qui se ne era già andato a Roma quindi non poteva in qualche modo difendere il suo progetto qual non è qui e Cloco non capisse ecco su questa frase si è costruita poi una narrazione che non sto a raccontarvi ma che è straordinaria dal punto di vista diciamo del senso del luogo di Rialto perché Fragiocondo con questo progetto non capisce che bisogna tener conto delle stratificazioni di un luogo della stratificazione delle proprietà in un luogo così importante per Venezia questo luogo come dice questo progetto di Rialto tutto serato come dice Sanudo non può funzionare a Venezia mentre a Venezia come sapete il progetto di costruzione dell'insula di Rialto viene affidato a Scarpagnino Scarpagnino che di fatto in maniera molto elastica ma anche molto pragmatica non fa che diciamo ripetere un modulo un modulo che vedete che è questo arcata arco su pilastro quadrangolare con due livelli al di sopra quindi cambia quel sistema di arcate che non era uguale che vedevamo nella pianta di Jacopo dei Barbari conferendo una unitarietà di disegno a tutta l'insula vuoi nell'edificio delle drapperie che vedete qui sul fondo vuoi nell'edificio del banco giro eccetera eccetera ripete in maniera molto pragmatica questo modulo e con una semplicità e con un anche con una certa elasticità questi edifici che forse sono stati un po' lasciatemelo dire sottovalutati dagli storici dell'architettura in realtà all'epoca riscontrano un certo favore l'ha dimostrato molto bene Gian Mario Guidarelli nel suo libro su Tintoretto e l'architettura che vi consiglio di leggere laddove grazie alla sua grande esperienza di conoscitore d'architettura ha individuato sullo sfondo di questo dipinto di Tintoretto il richiamo del portico delle drapperie e sicuramente funziona quindi un Tintoretto che registra la novitas di questa architettura ma anche come dire registra anche un po' l'ha dimostrato molto bene i luoghi in cui i confratelli della scuola di San Marco a cui questo dipinto come sapete era destinato erano abituati a percorrere altro tipo di rappresentazione e forse mi devo avviare alle conclusioni perché è tardissimo altro tipo di rappresentazione è di tipo progettuale come questa che vedete in cui diciamo rialto ritorna ad essere rappresentata vedete in un modo simbolico perché l'obiettivo di questa pianta di Cristoforo Sabadino sulla quale non intendo dilungarmi è quello è un altro e quindi qui rialto ha senso solo come diciamo luogo luogo vedete identificato attraverso un campanile una piazza e il ponte il ponte che è un punto di passaggio come probabilmente sapete Cristoforo Sabadino proto dei savi ed esecutori proto ingegnere dei savi esecutori e alle acque aveva previsto un seconda costruzione di un secondo ponte in corrispondenza dell'attuale ponte della costituzione detto di Calatrava ma su questo non posso dilungarmi mentre invece molto velocemente vorrei arrivare a tre rappresentazioni e lo faccio molto velocemente rappresentazioni di tipo diverse che riprendono sicuramente De Barbari ma che hanno un effetto coloristico diverso hanno probabilmente una destinazione diversa questa che vedete è la pianta studiata proprio dalla veduta di Venezia di Odoardo Fialetti che risale al 1611 ed è conservata all'Eton College ha una estensione di 8 metri quadrati ed è si tratta di rappresentazioni di Venezia a carattere a carattere eccezionale che che probabilmente erano anche destinate a particolari ambienti dei palazzi veneziani è molto interessante il fatto che oggi si trovi esposto come lo vedete all'interno dell'Eton College venne portata e appunto regalata a questo college a questa scuola da il primo ambasciatore veneziano residente a Venezia che era Henry Wottom il quale poi era diventato era diventato preside diremmo oggi di questa di questa prestigioso college la cosa interessante è che se andiamo a vedere isoliamo questa volta perché non abbiamo molto tempo isoliamo il dettaglio di Rialto e vediamo come questa volta compaia il ponte di Rialto realizzato in pietra quindi il ponte nuovo ma una rappresentazione di Rialto tratta da De Barbari è come ha sottolineato molto bene Deborah Howard è proprio come se quell'immagine di Jacopo De Barbari che era molto nota diciamo desse l'immagine circolante di Rialto prima dell'incendio perché in un certo senso era diventata consuetudine identificava quel luogo meglio di altri quindi in questo caso c'è una combinazione in queste invece che vedete ed è una veduta straordinaria conservata al Museo Corer invece è rimasta a Venezia di Gian Battista Arzenti qui siamo a nove metri quadrati e come ha notato sempre Deborah Howard rappresenta la città in un momento particolare la festa dell'ascensione vedete che c'è il Bucintoro scusate che sta uscendo verso il mare e anche qui si potrebbe raccontare qualcosa di interessante per esempio che mentre la parte vedete occidentale della città è rappresentata in maniera quasi è quasi un non finito la parte invece intorno vedete a partire da l'isola di San Giorgio Maggiore che è rappresentata in maniera straordinariamente efficace ma verso San Pietro di Castello è rappresentata in maniera più raffinata e più chiara tant'è che Gian Mario Guidarelli proprio sulla base dell'esame dell'insula di San Pietro in Castello è riuscito ad adattare la rappresentazione al 1619 e 26 in questo caso vi faccio vedere invece il dettaglio di Rialto da delle fotografie che abbiamo effettuato grazie alla collaborazione appunto del Museo Corer qui invece è successo a Rialto qualcosa abbiamo la nuova formazione costruzione di edifici secondo il progetto di Scarpagnino ma guardate anche qui come quell'elemento straordinariamente identificativo di Rialto la chiesa di San Giacometto con tutte le botteghe intorno che è una delle delle invenzioni non tanto delle invenzioni ma degli elementi più interessanti di tutta l'isola di Rialto si accolta con estrema con estrema efficacia una terza mappa che è una terza pianta di Venezia di Joseph Feinz il giovane che è peraltro esposta al Museo Coreri insieme all'Arzenti che abbiamo visto prima e al Jacopo de Barbari che pure abbiamo visto prima invece è meno dal punto di vista dello storico della città interessante rispetto all'Arzenti è una replica quasi tale quale di Jacopo de Barbari pur risalento alla metà del VII secolo ora per concludere vorrei dire che mi piacerebbe leggere delle descrizioni di descrizioni che in qualche modo vanno accoppiate alle rappresentazioni cartografiche rappresentazioni di viaggiatori ma avremo modo semmai di parlarne in altra sede come questa straordinaria di Thomas Koryat un inglese che arriva a Venezia nell'ottobre del 1608 e che è stato definito l'inventore del viaggio per piacere dal fondatore della casa editrice australiana Lolly Planet cioè davvero ci descrive Rialto ci descrive Venezia ma in particolare la piazza di Rialto ricostruita con i suoi rumori con le persone che la attraversano cogliendo quel senso del luogo che forse vale la pena di riprendere sul quale secondo noi di tutta l'associazione con questo concludo vale la pena oggi di riflettere perché Rialto è un luogo che ha respinto dei progetti di grande trasformazione oggi diremo che è un luogo resiliente che resiste alle grandi trasformazioni nell'Ottocento quando venne riformulata e ripensata l'attestata diciamo di questa area la pescheria furono elaborati dei progetti che qui vedete attraverso delle altre rappresentazioni progetti cartografici disegni che stanno a monte della progettazione della nuova loggetta e che in qualche modo andavano a compensare un sistema che vedete qui che era un mercato coperto realizzato nel 1884 da Forcellini un mercato coperto come in molte città europee allora veniva e che si inseriva vedete tra le fabbriche nuove di San Sovino e tutta l'area della pescheria ma che cambiava profondamente le ragioni del luogo perché diciamo che vi faccio vedere qui che rendeva il sistema ortogonale di Calli le chiudeva con un blocco chiuso adiacente alla riva andando a chiudere quel luogo ora ovviamente questa tettoia come sapete venne distrutta e venne costruita la loggia della pescheria sulla quale la nostra associazione ha tanto ha tanto lavorato e ci sarà molto da lavorare ora per concludere e questo per dire che per capire e per lavorare su rialto forse anche il caso di capire una storia che non è una storia immediata è una storia che richiede molta attenzione richiede molta pazienza come penso di aver di avervi dimostrato oggi ma credo anche che sia un luogo dove quel senso di di progettazione possa in qualche modo trovare uno sfondo e questo sfondo è questo capriccio di canaletto canaletto che mette al centro uno dei progetti non realizzati ovviamente di palladio per il ponte di rialto insieme a architetture vicentine la basilica e il palazzo Chiericati ed un palazzo invece rialtino effettivamente realizzato quindi da questa storia così se volete stratificata ma anche sugli slanci che questo posto rialto questo luogo ha conosciuto occorre occorre ripartire per ripensare a questo cuore di Venezia vi ringrazio moltissimo